La metà dell'autonomia è una sfida, quindi noi dobbiamo recuperare nel sud questo spirito federalista e autonomista, senza avere paura di quelli del nord che vogliono andare. Certo, dobbiamo garantire gli stessi diritti, qui dobbiamo essere rigorosi, forti e decisi. Un sud più forte, una campagna più forte, si accetta la sfida dell'autonomia. Mi pare che qui ci sia una convergenza, questo è un fatto positivo, nel senso che ci hanno messo un po' di tempo, il centro-sinistra, a convincersi di questa sfida, a molti ritardi devo dire, questa sfida però oggi noi siamo sempre un'opposizione costruttiva, per il bene dei cittadini campani noi guardiamo a quello, al loro bene e quindi quando c'è da fare una cosa buona noi siamo costruttivi, quindi lavoriamo per il bene dei cittadini campani, l'autonomia è una grande sfida che va accettata.